Educare alla crescita, pensiero, emozione e sensazione. Questo è il titolo dell'incontro che ha avuto luogo presso il liceo Cartesio a Villaricca sulle nuove e vecchie modalità educative. Dopo i saluti della dirigente scolastica dottoressa Donatella Concia e dell'assessore alle politiche sociali del comune di Villaricca Giovanni Granata, è intervenuta la psicoterapeuta Carmen Pirozzi e il dottor Antonio Ferrara, direttore dell'istituto IGAT, psicologo e psicoterapeuta noto a livello internazionale, esperto nei processi educativi e rieducativi, reduce dall'esperienza di rieducazione nel carcere brasiliano di Acuda. Il mondo della terapia oggi ha una visione umanistica soprattutto e quindi una visione umanistica mette al centro di ogni situazione sociale la persona, l'uomo, quindi non è la terapia di una volta che guardava la patologia semplicemente ai casi clinici. L'uso della tecnologia ovviamente ha dato grandi progressi in tante aree e contemporaneamente ha creato anche delle dipendenze, tanto che ha a che fare per esempio con i telefonini o con i giochi eccetera creano un attaccamento delle funzioni che non sarebbero così importanti come guardare più dentro se stessi, scoprirsi, conoscersi. L'iniziativa si è svolta all'interno del progetto Benessere Psicologico in Tempo di Crisi giunto alla terza edizione che vede coinvolte e supportate le istituzioni nel dare un sostegno alla crescita delle giovani generazioni. Quest'anno il progetto Benessere Psicologico in Tempi di Crisi e per esso il progetto Benessere Psicologico nelle scuole approda qui al Cartesio il primo anno che coinvolgiamo una scuola secondaria di secondo grado. Vediamo che effettivamente i ragazzi riescono a ricevere bene il messaggio che vuole dare questo progetto cioè quello di elaborare quello che è anche il modo di stare insieme il modo di comportarsi ma soprattutto il modo di crescere.